Ha sbagliato piano ingegnere, questo è il terzo Ah, non fa niente, salgo a piedi Va a lezione di violino? Sì, ma è l'ultima volta, ho deciso di fare chitarra Ah, beh, il pianoforte però cominciava a suonarlo bene La sentivamo alla sera Ah no, il pianoforte no, sempre chiuso in casa, una noia Beh, buonasera Arrivederci, auguri per la chitarra Ciao Volevo dirti che stasera si va a una festa Bene, un po' di svago ci voleva Non farti illusioni, è una cena di piloti, ti va ad andarci? Meglio di niente Allora gli dico di sì Ah, senti, la spesa non la faccio, tanto mangiamo fuori Va bene? Ci vediamo stasera, ciao Ciao Ah, ciao Sai, sono arrivati i dati del computer, tutto a posto Ah, bene, allora stasera ci vediamo alla cena Come no Marco? Basta, non ne posso più Più di un'ora per tornare a casa Traffico sull'Olimpica è diventato un inferno Oh Olimpica Ti fa pensare alle corse, alla velocità E invece sei lì che procedi a singhiozzo E vai, e vai Un tratto di alcuni metri e poi stop Poi ancora altri metri e ancora stop Sì, così, così Bello Ma dove vai? Vieni qua Ma dove vai? Vieni qua Che cosa fai lì? Aspetto Giuliana, ho dimenticato le chiavi di casa A quest'ora? Ma ti rendi conto? Può essere pericoloso Cosa vuoi che succeda? È come portare Lulu a fare due passi Non puoi restare qui Vieni a casa Simona, non possiamo più continuare così Vieni Ma cosa vuoi da me? Non ti basta quello che ti ho fatto? Vai da Marisa Cosa c'entra Marisa? C'entra, c'entra E poi io non sono adatta a fare la moglie Lulù È tornata Simona? Cosa c'entra? Cosa c'entra? Cosa c'entra? Grazie. La catenina era troppo sottile. Ne ho fatta mettere una più robusta. Adesso si cena. Vai a cambiarti. Auguri. Auguri anche a te. Auguri. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.